Chitarra alla mano, il segretario di Stato americano Anthony Blinken, in una pausa del suo fitto programma in Ucraina, si è esibito in un bar di Kiev suonando la leggendaria Rockin' in the Free World di Neil Young. Una canzone scelta per lanciare un messaggio preciso dalla capitale dell'Ucraina in guerra a causa dell'invasione russa dal febbraio 2022. I vostri soldati, i vostri cittadini, in particolare nel nord-est, a Kharkiv, stanno soffrendo enormemente, ma devono sapere, e dovete sapere, che gli Stati Uniti sono con voi, il mondo è con voi, stanno combattendo non solo per l'Ucraina libera, ma per il mondo libero e anche il mondo libero è con voi, ha detto, fra gli applausi del pubblico.